Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata della serie in cucina con Paolo Vrada. Si tratta di una serie di video dove si beve e si magna. Buona visione! È appena arrivato un bel pacchetto di cose buone tipiche calabresi, quindi come di consueto andiamo ad aprirlo e poi ci realizziamo qualche ricetta. Avvicinatevi che vi faccio vedere che cosa contiene. Allora, dentro questo bel pacchetto di prodotti selezionati da Calabria Shop, per il quale vi lascio in descrizione tutti i contatti, caso mai voleste andare a curiosare che prodotti ha disponibili e magari ordinare anche qualche bel prodottino gustoso, andiamo adesso a vedere che cosa contiene questo bel pacchetto. Allora, per prima abbiamo la famosissima salsiccia piccante tipica calabrese, ottima tagliata a fette messa in un panino è la morte sua. Anche questa proviene da Spilinga, località famosa per la produzione di salumi. Poi abbiamo le olive verdi in salamoia, che adesso fra un attimo andremo ad aprire e ad assaggiare. Guardate che belle olivazze, belle grosse. Qui abbiamo una ricottina affumicata della Piana e si vede che è anche bella affumicata forte. Adesso poi l'apriamo e voi non potrete sentire il profumo ma ve lo racconto io, farò del mio meglio. E poi a proposito di Spilinga abbiamo la famosissima anduia di Spilinga. Questa non ha bisogno di presentazioni e sappiamo che è ottima in tante preparazioni e anche solo spalmata sul pane. È veramente una delizia. Poi continuiamo con i capri al sale, che vedremo di assaggiare e magari inserire in qualche ricetta. Sempre anche questi provengono da Spilinga. E per ultimo, ma non ultimo, abbiamo una pasta tipica calabrese, che viene chiamata in tanti modi, anche a seconda della località. Ma è molto conosciuta come le fileia calabresi. In un pacco da mezzo chilo. Ottima fatta fresca, dalle nonne, dalle mamme calabresi. Però ovviamente non si può sempre averla fresca e anche averla così, in questo formato, direttamente a casa propria. Direi che è una bella comodità. Ovviamente lavorazione artigianale con semola di grano d'uovo. Quindi, dopo una breve consultazione con la mia fida assistente, abbiamo deciso di fare un bel piatto di fileia. Con un poco di pomodoro, le olive, una grattata di ricotta salata. E poi ovviamente andiamo ad aprire la salsiccia, perché vuoi non assaggiare la salsiccia. Perfetto, mettiamoci al lavoro. Quindi andiamo ad aprire le olive. Nel frattempo abbiamo anche già preparato la cipolla. Ed è pronta in padella. Ed eccole qua. Quelle in eccesso le abbiamo messe in un vasetto. Ed ora andremo a privarle del nocciolo. Prima di tutto facciamo un controllo qualità. E devo dire che non sono niente male. E le olive le abbiamo preparate. Ora è il turno della ricotta, quindi andiamo ad aprirla. Voilà! Prova olfattiva! Ah, però... Si sente sia lo vino che la fumicatura. Spettacolare! Adesso andiamo a togliere la sua etichettina e andiamo a dargli una bella grattatina. Così ce la prepariamo per il suo. E gratta, gratta! Guardate che bellina! Quindi accendiamo la padella con abbondante olio e cipolla. Così la facciamo intanto rosolare. Nel frattempo portiamo ad ebollizione anche l'acqua. La cipolla si sta rosolando per bene. Quindi direi che possiamo aprire la salsiccia piccante. E guardatela in tutto il suo splendore. Ora andiamo a tagliare un paio di fettine. E vediamo com'è. Una anche all'assistente che se no poi si offende. Ok. Alla salute! Diciamo che è abbastanza fresca. Lasciarla stagionare ancora un pochino non gli farebbe male. Ma questo anche perché è stata messa sotto vuoto. Comunque sia decisamente ottima. Aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo anche un poco d'acqua e lasciamo cuocere. A fiamma moderata. Aggiungiamo anche le olive. Dopo qualche minuto. E lasciamo cuocere ancora. Il sugo cuoce. E quindi io preparo la salsiccia da mettere a tavola. Non so se ve lo ricordate questo mio tagliere. Fatto apposta per la salsiccia. O il salame. Voilà! Pronti per andare in tavola. L'acqua bolle. Versiamo la pasta. La pasta è cotta quindi scoliamola. E ammirate signori che bellezza. E che bontà. Ho già l'acquolina in bocca. Andiamo a fare il piattino. Ed ora la ricotta affumicata a pioggia. Ed ora signori miei è giunto il momento mio preferito. Quello dell'assaggio quindi. Devo dire molto buona. Devo dire che ne è uscito veramente un bel piattino. Che riporta alla tradizione della cucina calabrese. Con una spolverata di peperoncino come piace a me. E' veramente il top. I prodotti selezionati da Calabria Shop sono veramente ottimi. E se vi dovessero servire. Come sempre in descrizione vi lascio il link. Tutti quanti i contatti. In modo che potete andare a curiosare i prodotti disponibili. Ed eventualmente ordinare quelli che preferite. Detto ciò. Come dico sempre io. Le idee migliori vengono sempre a pancia piena. Quindi trattatevi bene. E mangiate bene. E a questo punto io vi saluto. Buon appetito a tutti. Grazie per aver guardato il video. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. E se vi avanza tempo. Condividete il video. A me non resta da fare altro che salutarvi. E augurarvi buon appetito a tutti.